Salve a tutti! Oggi continueremo a parlare dei sepolcri di Foscolo e in particolare daremo risposta alle ultime due domande guida, la numero 18 e la numero 19. Cominciamo dalla numero 18. In che senso i sepolcri possono essere considerati a tutti gli effetti un testo politico? E quale valore assume agli occhi di Foscolo il mondo classico in relazione a quella attuale? Per rispondere alla prima parte della domanda, cioè se i sepolcri debbano essere considerati un testo politico e perché, basta leggere il paragrafo intitolato Un testo politico che si trova alla pagina 528 del nostro libro di testo. Infatti, ecco, ho già sottolineato la parte importante. I sepolcri non sono soltanto un testo così che si prefigge scopi di ragionamento, un testo speculativo, ma sono anche un testo che si prefigge degli obiettivi pratici, cioè vuole infiammare l'animo dei lettori e spingerli all'azione. E si tratta proprio di un'azione politica. Il lettore deve essere stimolato da questo testo, ovviamente sto parlando del lettore contemporaneo, il lettore del 1800, deve essere stimolato da questo testo a muoversi, ad agire, a fare grandi cose a favore della nazione che ancora non esiste, perché l'Italia non era una nazione libera, non era una nazione unificata. Quindi noi italiani dobbiamo agire politicamente e attivarci tutti insieme affinché l'Italia diventi quello che adesso non è e ritorni a quella potenza, a quel luogo, a quel posto che le compete all'interno delle nazioni. Il paragrafo successivo, il mondo classico, un modello per il mondo attuale, dà risposta alla seconda parte della domanda. Che valore ha il mondo classico per Foscolo? Allora, per rispondere basta dire che nei sepoltri ci sono tantissimi riferimenti al mondo classico, sia dal punto di vista mitologico, vengono citati vari dèi, la musatalia, eccetera, sia dal punto di vista storico e geografico, si cita la battaglia di Maratona, si cita la guerra di Troia, sia dal punto di vista poetico. Infatti entrano in gioco dei poeti come Omero e dei personaggi appunto di un'opera poetica come Liliade, Achille, Iace, eccetera. Ora, questi riferimenti per Foscolo non sono solo un modo per abbellire il suo testo, ma sono anche un modo per dare a noi lettori la strada, per indicarci la strada da seguire. La classicità secondo Foscolo, cioè il mondo dei Greci e dei Romani, era un'epoca esemplare, un'epoca storica che anche noi moderni dobbiamo prendere come esempio e dobbiamo seguire. La civiltà greco-latina, infatti, contava tutto un insieme di valori, un complesso di modi di pensare, di tradizioni, di usi, costumi che il presente ignora, ma che invece sarebbe molto utile recuperare. Per esempio l'amore per la patria, il coraggio, la fedeltà, l'onestà, tutti i valori che nel passato esistevano e che oggi sarebbe proprio il caso di riportare in vita. Quindi a cosa serve recuperare il passato greco-romano? Serve a Foscolo per dare a noi lettori una guida, uno stimolo a fare grandi azioni esattamente come le facevano i Greci e i Romani. Ma torniamo alle nostre domande guida e leggiamo insieme la seconda, la numero 19, che poi è anche l'ultima domanda sui sepolcri. I sepolcri possono essere considerati a tutti gli effetti un testo argomentativo in poesia. Quale tesi viene affermata alla fine attraverso l'episodio di Omero? Cominciamo per rispondere dicendo che in effetti i sepolcri sono proprio un testo argomentativo, cioè contengono una tesi da dimostrare e delle prove a favore di questa tesi. Contengono anche l'antitesi e la confutazione di questa antitesi. Ma ciò che è caratteristico, peculiare dei sepolcri, che lo rende un testo argomentativo un pochino diverso dal solito, è il fatto che in questo testo esistono ben due tesi. Una prima tesi, dimostrata all'inizio, la quale dice l'editto di Saint-Claude è sbagliato, noi dobbiamo continuare a fare tombe individuali e a metterle nel centro della città. Questo è valido soprattutto per le tombe dei grandi uomini perché da esse dobbiamo trarre ispirazione per essere altrettanto grandi. Ma alla fine Foscolo conclude affermando una seconda tesi. Le tombe infatti sono fatte di materiale che può essere distrutto, sono fatte di marmo, sono fatte di pietra e con il passare del tempo, con le vicende umane e naturali, possono in qualche modo venire a essere perse. Per esempio le tombe degli antichi greci, degli antichi troiani che hanno compiuto gesta eroiche durante la guerra di Troia non esistono più, sono scomparse. Quindi qual è la vera sepoltura? Qual è il vero sepolcro? Cioè quella cosa che ti ricorderà per sempre ai posteri? Ebbene l'unica cosa secondo Foscolo e questo è l'ultima tesi che lui vuole dimostrare, l'unica cosa che ti eternerà, che ti renderà immortale è la poesia. Grazie alla poesia sia chi scrive poesia, quindi poeti, sia chi viene cantato, chi viene elogiato, chi viene citato all'interno delle poesie, entrambi poeti e personaggi diventano immortali. Ecco quindi la poesia è la vera sepoltura, il vero sepolcro. Andiamo a leggere questi ultimi versi del Carme e vediamo come viene esposta questa tesi da Foscolo. Prima dei versi sottolineati che sono quelli che ci interessano, Foscolo racconta un episodio che ovviamente si è un po' inventato. Lui immagina che Omero, il grande poeta greco che ha scritto l'Iliade, sia andato effettivamente a visitare i sepolcri dei grandi combattenti di Troia, quindi abbia visitato la tomba di Ettore, la tomba di Achille, la tomba di Patroclo eccetera. E immagina che le anime di questi grandi eroi, di questi grandi combattenti in qualche modo abbiano parlato ad Omero, il sacrovate, il sacro profeta, abbia potuto ascoltare le voci di queste anime e quindi poi abbia raccontato con l'Iliade quello che le anime gli hanno detto. Andiamo quindi a leggere come si concludono i sepolcri. Il sacrovate, Omero, placando quelle afflitte alme col canto, quindi placando quelle, pacificando quelle anime afflitte attraverso il suo canto, cioè attraverso l'Iliade, renderà eterni i princi argivi, eternerà i principi gresci, cioè quelli che hanno vinto e li renderà eterni facendoli conoscere in tutte le terre abbracciate dal grande padre Oceano. Quindi tutte le terre emerse. E questa è la prima parte. A cosa serve la poesia? La poesia serve a rendere eterni coloro che hanno compiuto grandi geste, soprattutto se hanno vinto. Ma gli sconfitti, anche gli sconfitti hanno compiuto grandi gesta magari. Pensate a Ettore. Ebbene, la poesia serve anche a quello, serve a risarcirli in qualche modo, a risarcirli della loro sventura. E tu, onore di pianti, Ettore avrai. Chiunque legga l'Iliade non può fare a meno di onorare e di piangere per la sconfitta, per la sciagura di Ettore. Soprattutto in quei luoghi dove sia santo e lagrimato e dove si pianga per il sangue versato per la patria. In quei luoghi dove si rispettano le persone che si fanno ammazzare per la loro patria, ecco lì, Ettore sarà sempre compianto e sarà sempre onorato, finché il sole risplenderà sulle sciagure umane, finché il mondo continuerà e gli uomini esisteranno. Quindi, prima la tesi finale, come prima cosa afferma, il vero sepolcro, quello che ci renderà immortali, ci ricorderà i posteri, non è fatto di pietra e marmo, ma è fatto di parole. È la poesia. E la poesia serve, uno, per eternare, per rendere eterni i vincitori, coloro che hanno fatto grandi azioni. Due, serve per rendere eterni e risarcire coloro che sono stati sconfitti, ma che sono state delle persone giuste. E tutto questo che ho appena finito di spiegarvi potete ritrovarlo anche nel nostro libro di testo alla pagina 529, esattamente nel paragrafo intitolato La poesia che rende eterni. Bene, abbiamo concluso, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.